Capitolo 24 Moe D'Ivory piazzò la figura sottile proprio davanti a Lucy Gray. Scura in viso, chiuse le mani a pugno. Vattene da qui, Billy Tape. Nessuno di noi ti vuole più. Billy Tape ondeggiò leggermente, scrutando il gruppo. Non mi volete, ma vi servo, Moe D'Ivory. Neanche ci servi, invece. Vattene e portati dietro quella spia della tua ragazza, gli ordinò Moe D'Ivory. Lucy Gray la cinse con le braccia, premendo una mano sul petto della bambina, per calmarla o per trattenerla. Tutti voi fate una musica senza sostanza, il suono è inconsistente, farfugliò Billy Tape e diede una pacca al suo strumento. Possiamo fare a meno di te, Billy Tape. Hai preso la tua decisione, adesso lasciaci in pace, disse Barbe Isor, una sfumatura tagliente nella voce tranquilla. Tam Ember non aprì bocca, ma fece un piccolo cenno di assenso. Il dolore ballenò sul volto di Billy Tape. La pensi così anche tu? Sì, sì. Clerc Carmine si avvicinò il violino al corpo. Anche se i covi erano diversi per carnagione, capelli e lineamenti, Coriolanus notò un'evidente somiglianza tra i due. Fratelli, forse? Puoi venire con me? Ce la caveremo bene io e te, insistè Billy Tape in tono implorante. Ma Clerc Carmine rimase dov'era. Benissimo allora, non ho bisogno di voi, e comunque non ne ho mai avuto, non ne avrò mai. Ho sempre fatto meglio per conto mio. Due pacificatori cominciarono ad avvicinarsi a Billy Tape. Quello che aveva regalato la bottiglia di liquore bianco a Lucy Gray gli posò una mano sul braccio. Andiamo adesso, lo spettacolo è finito. Billy Tape si ritrasse di scatto e gli diede una spinta scomposta. L'atmosfera amichevole del forno cambiò in un attimo. Coriolanus avvertì la tensione, tagliente come un coltello. Minatori che prima lo avevano ignorato, o gli avevano rivolto cenni di saluto da sopra le bottiglie, di colpo si fecero aggressivi. I pacificatori raddrizzarono le spalle, improvvisamente vigili, e lui stesso si ritrovò quasi sull'attenti. Quando cinque o sei pacificatori si mossero verso Billy Tape, Coriolanus percepì i minatori avanzare compatti. Si stava preparando alla rissa che di certo sarebbe seguita, quando qualcuno staccò le luci e il forno piombò nell'oscurità. Tutto si immobilizzò per un istante. Poi fu il caos. Un pugno centrò Coriolanus alla bocca, inducendolo a reagire e a menare i suoi di pugni. Colpiva a casaccio, concentrato soltanto a proteggere il proprio spazio vitale. Fu travolto dalla stessa ferocia che aveva sperimentato quando i tributi gli davano la caccia nell'arena. La voce della dottoressa Gol gli rimbombava nelle orecchie. «Questa è la razza umana allo stato di natura, questa è l'umanità spogliata di ogni ornamento». Ed ecco di nuovo la nuda umanità, e di nuovo lui ne faceva parte, tirando calci e pugni, i denti scoperti nel buio. All'esterno del forno un corno squillò più volte, e i fari di un camion inondarono di luce la zona attraverso la porta spalancata. Si udirono fischietti che trillavano e voci che gridavano per disperdere la folla. La gente sbandò verso l'uscita. Coriolanus combatté contro la marea di persone, tentando di individuare Lucy Gray, ma poi capì che avrebbe avuto maggiori possibilità di trovarla fuori. Si fece strada sgomitando nella calca, sferrando ancora qualche pugno, e uscì nell'aria della notte, dove la gente si stava dando alla fuga, e i pacificatori, a gruppetti sparsi, facevano solo il gesto di inseguirli. La maggior parte di loro non era neppure in servizio, e non ci fu alcun tentativo di formare unità organizzate per affrontare quell'esplosione spontanea. Al buio, nessuno sapeva bene contro chi si fosse battuto. Meglio lasciar stare. Tuttavia, Coriolanus trovava inquietante quella situazione. A differenza di quanto era accaduto all'impiccagione, i minatori avevano reagito. Succhiandosi il labbro spaccato, si posizionò in modo da tenere d'occhio la porta, ma tra gli ultimi che si attardarono a uscire, non c'era traccia di Lucy Gray, dei covi, e nemmeno di Billy Taup. Era deluso per essere stato così vicino a lei, senza aver avuto la possibilità di parlarle. C'era un altro accesso al forno? Sì, ricordò una porta non lontana dal palcoscenico, che doveva aver permesso loro di sgattaiolare fuori. Mayfair Leap, invece, non aveva avuto tanta fortuna. Era lì, affiancata dai pacificatori, non in arresto, ma neppure libera di andarsene. Non ho fatto niente, non avete nessun diritto di trattenermi, apostrofò i soldati. «Spiacente, signorina», disse un pacificatore, «per la tua stessa sicurezza non possiamo permetterti di tornare a casa da sola. O lasci che ti facciamo da scorta, o chiamiamo tuo padre per maggiori istruzioni». L'accennò a suo padre, chiuse la bocca a Mayfair, ma non ne migliorò l'atteggiamento. Fremeva di rabbia, le labbra strette in una linea sottile e cattiva che diceva chiaro che qualcuno l'avrebbe pagata. Era solo una questione di tempo. Il compito di portarla a casa non pareva suscitare molto entusiasmo. Quindi furono Coriolanus e Seianus a ritrovarsi incaricati di farlo, o perché si erano distinti all'impiccagione, o perché in quel momento erano entrambi relativamente sobri. Due ufficiali e altri tre pacificatori completarono il gruppo. «A quest'ora, e con l'aria che tira, forse è meglio non correre rischi», disse un ufficiale. «Non è lontano». Mentre zigzagavano per le strade, gli stivali che facevano scricchiolare il pietrisco, Coriolanus era costretto a strizzare gli occhi nell'oscurità. Capitol City era illuminata dai lampioni, mentre lì doveva ricorrere agli sporadici guizzi di luce che venivano dalle finestre o dai tenui raggi di luna. Disarmato, senza nemmeno la protezione dell'uniforme bianca, si sentiva vulnerabile e restava vicino al gruppo. Gli ufficiali almeno avevano la pistola, e c'era da sperare che quello avrebbe tenuto alla larga i potenziali assalitori. Ricordò le parole della signora nonna. «Tuo padre diceva sempre che quella gente beveva acqua solo perché non pioveva sangue. Se sottovaluti tutto questo, lo fai a tuo rischio e pericolo, Coriolanus». Erano là fuori adesso, a osservarli in attesa che si presentasse l'occasione di spegnere la loro sete. Gli mancava la sicurezza della base militare. Per fortuna, dopo appena qualche isolato, le strade sbucavano su una piazza deserta. Era il posto in cui si teneva la mietitura annuale, Coriolanus se ne rese subito conto. Pochi riflettori distanziati, in modo irregolare, lo aiutarono a destreggiarsi sull'acciottolato. «Posso arrivare a casa benissimo da qui», disse Mayfer. «Non abbiamo fretta», replicò uno degli ufficiali. «Perché non mi lasciate in pace e basta», scattò la ragazza. «Perché non la smetti di andartene in giro con quel buono a nulla», suggerì l'ufficiale. «Fidati, non andrà a finire bene». «Oh, pensi agli affari suoi», lo rimbeccò lei. Attraversarono la piazza in diagonale, ne uscirono e seguirono una strada asfaltata di fresco fino alla via successiva. Il gruppo si arrestò davanti a una grande casa che nel distretto 12 poteva forse equivalere a una villa, ma che a Capitol City sarebbe stata del tutto ordinaria. Dalle finestre spalancate per la calura di agosto, Coriolanus colse qualche scorcio di stanze ben illuminate e ben arredate, nelle quali ronzanti ventilatori elettrici agitavano le tende. Il suo naso rilevò un sentore della cena serale. Coscia di maiale, ipotizzò, che gli fece venire un po' di acquolina in bocca e attenuò il sapore di sangue della ferita. Forse era meglio che non fosse riuscito a incontrare Lucy Gray. Le sue labbra non erano in condizioni di baciare. Quando uno degli ufficiali posò la mano sul cancello, Mayfair lo superò con una spinta, sfrecciò lungo il vialetto e scivolò in casa. «Lo riferiamo ai suoi genitori?» chiese l'altro ufficiale. «A che scopo?» rispose il primo. «Lo sai com'è il sindaco. Il fatto che la ragazza gironzoli di notte sarà considerato colpa nostra alla fine». «No, grazie. Faccio volentieri a meno di una predica». Il collega borbottò il suo assenso e il gruppo si avviò di nuovo verso la piazza. Mentre Coriolanus seguiva i commilitoni, un leggero similo meccanico attirò la sua attenzione. Si voltò verso i cespugli scuri, allineati lungo il lato della casa, ma riuscì a distinguere solo una sagoma ferma e immobile nel buio, la schiena appiattita contro il muro. Al primo piano si accese una luce e il bagliore giallo che si allungava verso il basso rivelò la presenza di Billy Taup e il naso insanguinato che fissava minaccioso proprio lui. Stringeva al petto il suo strumento, «origine del sibilo». Coriolanus aprì la bocca per avvertire gli altri, ma qualcosa gliela fece richiudere. Cos'era? Paura? Disinteresse? Incertezza per come avrebbe reagito Lucy Gray? I covi avevano fatto chiaramente capire la loro posizione quando si era trattato del suo rivale, eppure non sapeva come l'avrebbero presa se lo avesse denunciato, magari facendolo finire in galera. E se questo avesse reso Billy Taup un personaggio da compatire, verso il quale mostrare solidarietà e perdono? Capiva benissimo che la lealtà dei covi aveva radici profonde. D'altra parte, era possibile che accogliessero con entusiasmo un intervento di Coriolanus. Soprattutto Lucy Gray, che avrebbe potuto essere molto interessata al fatto che la sua vecchia fiamma era corsa a casa della figlia del sindaco in cerca di conforto. Cosa aveva fatto Billy Taup per meritare di essere cacciato da tutto ciò che significava far parte dei covi, gruppo e casa? Ricordò le ultime parole della ballata di Lucy Gray. La risposta era senz'altro lì. Peccato io sia la scommessa che hai perso nella mietitura. Adesso cosa farai quando sarò nella tomba. Comparve Mayfair, che chiuse la finestra. Poi tirò anche la tenda, coprendo la luce e nascondendo Billy Taup. I cespugli frusciarono. Il momento era passato. «Corio!» Sejanus era tornato indietro a cercarlo. «Vieni!» «Scusa, mi ero perso nei miei pensieri». Sejanus accennò all'edificio. «Mi ricorda Capital City. Non dici mai «casa mia», gli fece notare Coriolanus. «No, casa per me sarà sempre il distretto 2», confermò Sejanus. «Ma non ha importanza. Probabilmente non vedrò mai più né l'una né l'altro». Mentre camminavano verso la base, Coriolanus si chiese quali fossero le sue probabilità di rivedere Capital City. Prima che arrivasse Sejanus, aveva pensato che fossero pari a zero. Ma se vi avesse fatto ritorno da ufficiale, magari anche da eroi di guerra, le cose avrebbero potuto essere diverse. Certo, gli sarebbe servita una guerra per distinguersi, proprio come sarebbe servita Sejanus per diventare un soccorritore militare. Coriolanus rilassò le spalle quando il cancello della base si chiuse dietro di lui. Si lavò la faccia e si trascinò nella sua branda sopra il russare ubriaco di Pertica. E l'abrogonfio pulsava mentre riviveva mentalmente la serata. Era stato tutto come un sogno, vedere Lucy Gray, sentirla cantare, notare la sua gioia quando lo aveva scorto, finché non era arrivato Billy Tope a rovinare il loro incontro. Un'altra buona ragione per detestarlo, anche se il modo in cui i covi lo avevano allontanato era stato molto, molto gratificante. Confermava che Lucy Gray apparteneva a lui. La colazione della domenica portò la brutta notizia che, a causa della rissa della sera prima, nessun soldato poteva lasciare la base da solo. Le alte sfere stavano addirittura pensando di vietare l'accesso al forno. Smiley, Bug e Pertica, pur malmessi per via dei postumi della sbronza e dei lividi rimediati, si lamentarono della situazione, che avrebbe tolto loro tutto ciò che aspettavano con impazienza, se le uscite del sabato fossero state cancellate. Seianus, che era interessato alla cosa solo perché interessava a Coriolanus, riconobbe che quello era l'ennesimo ostacolo alla possibilità di vedere Lucy Gray. E se venisse a trovarti lei qui alla base? Suggerì mentre ripulivano i loro vassoi. Può farlo, ribatté Coriolanus, ma poi sperò che non lo facesse, anche potendo. Lui aveva poco tempo che non fosse già pianificato. E poi, dove li avrebbero autorizzati a parlare? Attraverso la recinzione? Come sarebbe stata considerata una cosa del genere? Tutto preso dall'idillio, la sera prima aveva pensato di salutarla pubblicamente con un bacio, ma a posteriori sapeva che il suo atto avrebbe scatenato un fuoco di fila di domande da parte dei commilitoni e senza dubbio insospettito qualche ufficiale. Sarebbe venuta fuori tutta la loro storia, compreso il suo arruolamento forzato e con quella anche il fatto che lui aveva imbrogliato nei giochi. In più, dati i problemi tra la gente del posto e i pacificatori, sarebbe stato più saggio mantenere privato il loro rapporto. Starsene a bisbigliare attraverso la recinzione avrebbe potuto dare adito a voci e far credere che fosse un simpatizzante dei ribelli o, peggio ancora, una spia. No, se volevano incontrarsi sarebbe dovuto andare lui da lei, di nascosto. Una giornata come quella sarebbe stata un'occasione preziosa per rintracciarla, ma gli serviva un compagno per uscire dalla base. Credo che faremmo meglio a tenere segreta la situazione tra noi. Lei potrebbe finire nei guai se venisse qui. Sejanus, avevi i programmi per oggi o... iniziò a dire. Abita in un posto che chiamano Giacimento, disse Sejanus, vicino al bosco. Cosa? Esclamò Coriolanus. Ieri sera l'ho chiesto a uno dei minatori, con grande disinvoltura. Sejanus sorrise. Non preoccuparti, era troppo ubriaco, non se lo ricorderà. E sì, sarai felice di accompagnarti. Sejanus disse ai compagni di camerata che andavano in città per provare a scambiare un pacchetto di gomme da masticare di Capitol City con della carta da lettere. Ma l'espediente si dimostrò superfluo, perché tutti gli altri riportarono la loro carcassa malconce in branda subito dopo la colazione. Coriolanus avrebbe voluto avere dei soldi per poter comprare un regalo di qualche genere, ma non possedeva neanche un centesimo. Mentre superavano la sala mensa diretti all'uscita, i suoi occhi però si posarono sulla macchina del ghiaccio e gli venne un'idea. Con quel caldo, i soldati avevano il permesso di prendere liberamente il ghiaccio per le loro bibite o per rinfrescarsi. Strofinarsi i cubetti sul corpo dava un po' di sollievo in quella sauna che era la cucina. Cuchi, che Coriolanus aveva conquistato con il suo zelo nel lavare i piatti, gli diede una vecchia busta di plastica. Con una giornata così torrida, convenne che avrebbero fatto bene a portarsi un po' di ghiaccio durante l'uscita per scongiurare i colpi di calore. Coriolanus non sapeva se i covi avessero un freezer, ma, a giudicare dall'aspetto delle case che avevano oltrepassato lungo il tragitto per l'impiccagione, pensava fosse un lusso che pochi potevano permettersi. In ogni caso, il ghiaccio era gratis e lui non voleva presentarsi a mani vuote. Firmarono per uscire al cancello, dove la guardia le avvertì di fare attenzione. Dopodiché si allontanarono in quella che ricordavano essere più o meno la direzione della piazza cittadina. Coriolanus era agitato, ma con le miniere chiuse per tutto il giorno, sul distretto gravava un profondo silenzio e i pochi passanti l'ignorarono. In piazza era rimasta aperta solo una piccola panetteria, le porte tenute aperte per permettere alla brezza di stemperare il calore dei forni. La proprietaria, una donna con il viso rosso come una barba bietola, aveva ben pochi interessi a dare indicazioni a due clienti non paganti, perciò Sejanus barattò la sua costosa gomma da masticare con una pagnotta. La cosa fece addolcire un po' la donna, che li accompagnò sulla piazza e indicò la via da seguire per arrivare al giacimento. Oltre il centro cittadino, il giacimento si estendeva per chilometri, le strade che svanivano in fretta per trasformarsi in un intreccio di viottoli più stretti e anonimi che nascevano dal nulla e nel nulla finivano senza motivo apparente. Alcuni vantavano file di casupole scalcinate tutte uguali, altri presentavano strutture di fortuna che sarebbe stato generoso definire baracche. Molte case erano puntellate, rabberciate o sfondate al punto che il loro scheletro originario non era che un ricordo. Molte altre erano state abbandonate e setacciate da cima a fondo in cerca di materiali utili. Senza una mappa o un punto di riferimento, Coriolanus perse quasi subito l'orientamento e il suo disagio tornò a farsi vivo. Ogni tanto passavano davanti a qualcuno seduto sulla veranda o all'ombra di casa sua. Nessuno però aveva un'aria molto amichevole. Le uniche creature socievoli erano i moscerini, la cui attrazione per il suo labbro ferito richiedeva che li scacciasse in continuazione. Mentre il sole picchiava sulle loro teste, la condensa sulla busta in cui il ghiaccio cominciava a liquefarsi gli disegnò un cerchio bagnato su una gamba dei pantaloni. Anche l'entusiasmo di Coriolanus iniziava a sciogliersi. L'ebrezza che aveva provato la sera prima al forno, l'elettrizzante mescolanza di liquore e desiderio, ormai gli sembrava solo un sogno febbrile. Forse non è stata una buona idea. Davvero? chiese Sejanus. Sono abbastanza sicuro che stiamo andando nella direzione giusta. Vedi quegli alberi laggiù? Coriolanus distinse una macchia di verde in lontananza. Continuò ad arrancare, pensando con affetto alla sua branda e ricordando che la domenica significava mortadella alla piastra e patate. Forse non era tagliato per fare l'innamorato. Forse nel profondo era più un solitario. Coriolanus Snow, più scompagnato che accoppiato. C'era una cosa da dire su Billy Top. Lui puzzava proprio di sentimenti appassionati. Era quello che voleva Lucy Gray. Passione, musica, alcol, chiaro di luna e un selvaggio che comprendesse tutto questo. Non un pacificatore sudato che si presentava alla sua porta la domenica mattina con un labbro spaccato e una busta di ghiaccio gocciolante. C'è dette il comando a Sejanus, seguendolo su e giù per sentieri coperti di cenere senza fare commenti. Alla fine il suo compagno si sarebbe stancato e loro due sarebbero tornati indietro per rimettersi in pari con le lettere da scrivere. Sejanus, Tigris, i suoi amici, gli insegnanti, si erano tutti sbagliati di grosso su di lui. La sua motivazione non era mai stata né l'amore né l'ambizione, ma solo il desiderio di ottenere il suo premio e un tranquillo lavoretto da funzionario nel quale compilare scartoffie e avere un sacco di tempo per partecipare ai te pomeridiani. Vigliacque, com'è che l'aveva chiamata il decano Highbottom? Ah sì, insulsa, ecco, era insulso come sua madre. Che delusione sarebbe stato per Crassus Xantos Snow. Ascolta, disse Sejanus, afferrandogli il braccio. Coriolanus si fermò e sollevò la testa. Una voce acuta perforava l'aria del mattino con una melodia malinconica. A mod ivory. Si diressero verso il punto da cui proveniva la musica. In fondo al sentiero, che correva proprio al limite del giacimento, c'era una piccola casa di legno sbilenca, inclinata come un albero sotto un vento costante. Il pezzetto di terra del giardino sul davanti era deserto, quindi si fecero strada in mezzo ai ciuffi di fiori selvatici, alcuni appena sbocciati, altri già avvizziti, che sembravano essere stati piantati lì senza molta logica. Quando arrivarono sul retro della casa, scoprirono mod ivory seduta su una veranda improvvisata, infagottata in un vecchio vestito di due taglie in più rispetto alla sua. Stava schiacciando delle noci con una pietra su un blocco di cemento, battendo il tempo della sua canzone. «Oh mia cara, crack! Oh mia cara, crack! Oh mia cara Clementine, crack!» Alzò lo sguardo e fece un gran sorriso quando li vide. «Io ti conosco!» Spazzolandosi il vestito dai gusci di noce, curse dentro casa. Coriolanus si asciugò al viso sulla manica, sperando che il suo labbro non avesse un aspetto troppo sgradevole quando fosse apparsa Lucy Gray. E invece mod ivory uscì con una sonnata barbazor, che si era raccolta i capelli in una coda frettolosa. Come la bambina, anche lei si era cambiata e aveva messo un abito che si poteva vedere indosso a chiunque fosse del distretto dodici. «Buongiorno!» disse. «Cercate Lucy Gray?» «Lui è il suo amico di Capitol City», le ricordò mod ivory. «Quello che l'ha presentata in tv, solo che adesso è quasi pelato. Mi ha dato i popcorn caramellati». «Beh, quelli ce li siamo proprio gustati!» «E apprezziamo tutto quello che hai fatto per Lucy Gray», disse barbazor. «Penso che la troverai giù al prato. È lì che va a lavorare la mattina presto, per non disturbare i vicini. Ti mostro dov'è, lascia fare a me!» Mod ivory saltò giù dalla veranda e prese la mano di Coriolanus, come se fossero vecchi amici. «È da questa parte!» Senza fratelli o sorelle più piccoli né altri parenti, Coriolanus aveva poca esperienza con i bambini, ma il modo in cui mod ivory gli si era attaccata, la piccola mano fresca e fiduciosa nella sua, lo faceva sentire speciale. «Quindi mi hai visto in tv?» «Solo una sera. C'era sereno e Tammember ha usato un sacco di segnola sull'antenna. Di solito prendiamo solo interferenze, ma è eccezionale già averla a una tv», spiegò Mod ivory. «La maggior parte della gente non ce l'ha, non che ci sia poi molto da guardare, a parte quelle vecchie notizie noiose». La dottoressa Gol poteva sproloquiare quanto voleva di coinvolgimento del pubblico negli Hunger Games, ma se nei distretti praticamente nessuno aveva un televisore funzionante, l'effetto sarebbe rimasto circoscritto alla mietitura, quando tutti si riunivano in piazza. Mentre camminavano verso il bosco, Mod ivory continuò a parlare a raffica del loro spettacolo della sera prima e della rissa che era seguita. «Mi dispiace che ti hanno dato un pugno», disse, indicando il suo labbro. «Però Billy Top è così. Dove va lui, arrivano i guai». «È tuo fratello?» chiese Sejanus. «Oh no, lui è un clade. È il fratello di Clerc Carmine. Noi altri siamo tutti cugini Bird. Le ragazze, cioè. E Tamember è un'anima sperduta», spiegò Mod ivory senza troppi giri di parole. Lucy Gray non era l'unica a usare strani modi di dire. Doveva essere una caratteristica dei covi. «Un'anima sperduta», chiese Coriolanus. «Certo! I covi hanno trovato Tamember quando era solo un neonato. Lo avevano abbandonato in una scatola di cartone sul ciglio della strada. Perciò è nostro. Peggio per loro, comunque, perché è il musicista con il miglior pizzicato del mondo», dichiarò Mod ivory. «Non è un gran chiacchierone, però. Quello è ghiaccio!» Coriolanus fece oscillare l'ammasso di cubetti sempre più liquido. «Ciò che ne rimane?» «Oh, a Lucy Gray piacerà. Un frigorifero ce l'abbiamo, ma il freezer è rotto da un pezzo. Sembra un lusso avere del ghiaccio d'estate. Come i fiori d'inverno, una rarità.» Coriolanus concordò. «D'inverno mia nonna coltiva le rose. La gente ne va matta.» «L'Ussigrei ha detto che profumavi di rose», disse Mod ivory. «Avete la casa piena.» «La nonna le coltiva sul tetto», spiegò Coriolanus. «Sul tetto?» ridacchiò la bambina. «Che posto stupido per dei fiori! Non scivolano giù! È un tetto piatto, molto alto, con un sacco di luce», disse. «Da lì si vede tutta Capitol City.» «A Lucy Gray non è piaciuta Capitol City. Hanno cercato di ucciderla», replicò Mod ivory. «Sì», riconobbe lui. «Non poteva trovarla molto piacevole. Ha detto che l'unica cosa bella di Capitol City eri tu. E adesso sei qui.» Mod ivory gli tirò la mano. «E resti qui, vero? L'idea è questa», rispose Coriolanus. «Sono contenta. A me piaci e lei sarà felice», disse la piccola. Ormai tre avevano raggiunto il margine di un grande campo che digradava verso il bosco. A differenza della distesa piena di erbacce davanti all'albero delle impiccagioni, il prato poteva vantare un'erba fresca e alta, e zone fitte di fiori di campo dalle tinte vivaci. «Eccola là, con Seamus!» Mod ivory indicò una figura solitaria su una roccia. Con indosso un vestito grigio come il suo secondo nome, Lucy Gray sedeva di spalle rispetto a loro, con la testa china sulla chitarra. «Seamus? Chi era Seamus? Un altro covi?» o aveva frainteso il ruolo di Billy Tope nella sua vita, e l'innamorato era questo Seamus. Coriolanus si schermò gli occhi dal sole con una mano, ma vide soltanto lei. «Seamus! È la nostra capra! Non farti ingannare dal nome da maschio. Può dare quasi quattro litri di latte al giorno quando è in forma», rispose la piccola. «Stiamo cercando di scremare abbastanza panna per farci il burro, ma ci vuole una vita!» «Oh, io adoro il burro!» disse Seamus. «E questo mi ha fatto ricordare che non ti ho dato questa!» Le mostrò la pagnotta. «Hai già fatto colazione?» «In effetti no!» rispose Mod ivory, guardando la forma di pane con interesse. Seamus gliela tese. «Cosa ne dici se torniamo a casa e ce la mangiamo adesso?» La piccola si infilò il pane sotto il braccio. «E Lucy Gray è questo qui?» chiese, accennando a Coriolanus. «Possono unirsi a noi dopo aver fatto due chiacchiere», rispose Seamus. «Va bene», concordò lei, trasferendo la mano in quella del ragazzo. «Può darsi che Barbasor voglia che li aspettiamo. Potresti prima aiutarmi a sgusciare le noci, se vuoi. Sono dell'anno scorso, ma nessuno ancora si è sentito male a mangiarle. Beh, questa è la migliore proposta che ricevo da un sacco di tempo!» Seamus si girò verso Coriolanus. «Ci vediamo dopo?» Coriolanus si sentiva impacciato. «Vado bene? Sei bellissimo! Fidati, quel labbro ti dona, soldato!» disse Seamus e si riavviò verso la casa insieme a Mod ivory. Coriolanus si passò una mano tra i capelli e si immerse nel prato. Non aveva mai camminato nell'erba così alta e la sensazione di solletico alle mani aumentava il suo nervosismo. Poterla rivedere in privato, in un campo pieno di fiori, con tutta la giornata davanti, andava ben oltre le sue speranze. Proprio il contrario di un frettoloso incontro nel forno sudicio. Quella situazione era, in mancanza di una definizione migliore, romantica. Avanzò il più silenziosamente possibile. In genere lei lo disorientava, perciò Coriolanus fu contento di poterlo osservare in un momento in cui era priva delle sue solite difese. Avvicinandosi, colse meglio la canzone che stava cantando mentre suonava piano la chitarra. «Verrai, verrai, all'albero verrai, qui hanno appeso un uomo che tre ne uccise, o pare. Strani eventi qui si son verificati, e nessuno mai verrebbe a curiosare se a mezzanotte ci incontrassimo all'albero degli impiccati». Non la riconobbe, ma gli riportò alla mente l'impiccagione del ribelle due giorni prima. C'era anche lei. L'esecuzione le aveva suggerito questo. «Verrai, verrai, all'albero verrai, laddove il morto implorò l'amor suo di scappare. Strani eventi qui si son verificati, e nessuno mai verrebbe a curiosare se a mezzanotte ci incontrassimo all'albero degli impiccati». «Ah, sì, era proprio l'impiccagione di Arlo, perché in quale altro posto un morto aveva gridato alla sua innamorata di scappare. «Scappa! Scappa, Lil! Scappa!» C'erano volute le ghiandaie imitatrici artificiali per riprodurre esattamente quelle parole. Ma chi era quello che invitava a incontrarsi con lei all'albero? Poteva essere lui stesso. Che Lucy Gray avesse pensato di cantare quella canzone il sabato seguente come il messaggio segreto per fissare un incontro a mezzanotte alla forca. Non che gli fosse possibile, non lo avrebbero mai autorizzato a uscire dalla base a quell'ora. Ma forse lei non lo sapeva. Ora Lucy Gray canticchiava a bocca chiusa, provando accordi diversi per accompagnare la melodia. E lui contemplava la curva del suo collo, la perfezione della sua pelle. Mentre si avvicinava calpestò un vecchio ramo, che si spezzò con uno schiocco. Lei balzò giù dalla roccia, ruotando su se stessa, gli occhi sbarrati per la paura e la chitarra tesa come per parare un colpo. Per un attimo Coriolanus pensò che sarebbe fuggita, ma lo spavento di Lucy Gray si tramutò in sollievo quando lo riconobbe. Scosse la testa, imbarazzata più di quanto lui l'avesse mai vista, e appoggiò la chitarra alla roccia. Scusa, ho ancora un piede nell'arena. La breve incursione nei giochi aveva lasciato a Coriolanus così tanto nervosismo e incubitali che poteva solo immaginare quanto fosse rimasta traumatizzata lei. L'ultimo mese aveva capovolto le loro vite e li aveva irrimediabilmente cambiati. Ed era una cosa davvero triste, perché erano entrambi persone molto speciali alle quali il mondo aveva riservato il trattamento più crudele. «Sì, lascia davvero il segno», confermò lui. Restarono lì per un istante, divorandosi con gli occhi. Poi si mossero insieme. La busta con il ghiaccio gli scivolò di mano quando lei gli gettò le braccia al collo, fondendo il corpo nel suo. Lui la strinsa a sé, ricordando quanta paura aveva avuto per lei, per se stesso, pensando a quanto non si fosse neppure azzardato a fantasticare su quel momento che gli era sembrato così irraggiungibile. Ma adesso erano al sicuro in un prato bellissimo, lontano 3000 chilometri dall'arena, inondati di luce, senza nessuno a frapporsi tra loro. «Mi hai trovata», disse lei. Nel distretto 12, in tutto Panem, nel mondo stesso, non importava. Nulla aveva più importanza ora. Sapevi che l'avrei fatto. Ci speravo, ma non lo sapevo con certezza. La buona sorte non sembrava a mio favore. Poi si tirò indietro quanto bastava per liberare una mano e sfiorargli le labbra con le dita. Lui sentì i calli dovuti alle corde della chitarra, la pelle morbida che c'era intorno, mentre lei esaminava la ferita della sera prima. Poi, quasi timidamente, Lucy Gray lo baciò, scatenando un brivido che lo percorse dalla testa ai piedi. Coriolanus ignorò il dolore alle labbra e le rispose, avido e curioso, ogni singola fibra del suo corpo improvvisamente sveglia. La baciò finché il labbro ferito non cominciò a sanguinare un po' e avrebbe continuato se lei non si fosse scostata. Qui, disse, vieni all'ombra. Il ghiaccio rimasto si incrinò con uno scricchiolio sotto il suo piede. Così lo recuperò. Per te. Grazie. Lucy Gray lo attirò a sedere alla base della roccia. Prese la busta, strappò un angolo della plastica con i denti per fare un piccolo buco e sollevò il tutto per permettere al ghiaccio sciolto di gocciolarle in bocca. Ah, sarà l'unica cosa fredda da qui a novembre. Spremette la busta con la mano, facendosi colpire in viso da uno schizzo leggero. È meraviglioso. Dai, avvicinati. Lui piegò la testa all'indietro e si sentì spruzzare le labbra da una pioggirellina che leccò via giusto in tempo per un altro lungo bacio. Poi lei si mise in ginocchio e disse, Allora, Coriolanus Snow, cosa ci fai nel mio campo? Già, cosa ci faceva? Passo un po' di tempo con la mia ragazza, rispose. Quasi non ci credo. Lucy Gray contemplò il prato. Dalla mietitura non c'è stato più niente che mi sia sembrato molto reale e i giochi sono stati un incubo. Anche per me, disse. Però voglio sapere cos'è successo a te, lontano dalle telecamere. Si sedettero vicini, spalle, costole e fianchi premuti, mani intrecciate, a scambiarsi notizie mentre si spartivano l'acqua del ghiaccio. Lucy Gray cominciò con il racconto dei primi giorni dei giochi, quando si era nascosta insieme a Jessup, che soffriva per il progredire della rabbia. Continuavamo a spostarci da un punto all'altro di quei tunnel. Sembra un labirinto là sotto. E ogni minuto che passava, il povero Jessup stava sempre peggio. Era fuori di testa. La prima notte abbiamo dormito vicino all'ingresso. Eri tu, vero? Quello venuto per spostare Marcus. Eravamo io e Sejanus. Lui è entrato di nascosto per... beh, non so nemmeno per cosa, per mostrare a tutti che era contrario ai giochi. E hanno mandato dentro me a recuperarlo, spiegò Coriolanus. Sei stato tu a uccidere Bobbin? Chiese sottovoce la ragazza. Lui a noi. Non ho avuto scelta. E dopo, tre degli altri tributi hanno tentato di uccidere me. Il viso di Lucy Gray si fece scuro. Lo so, li ho sentiti vantarsene quando sono tornati dai tornelli. Ho pensato che potessi essere morto. Mi terrorizzava il pensiero di averti perduto. Non ho tirato il fiato finché non hai mandato l'acqua. Allora sai come è stato per me ogni momento, disse Coriolanus. Non riuscivo a pensare ad altro che a te. Anch'io. Piegò le dita. Stringevo quel portacipria così forte che sul palmo si vedeva impresso il segno della rosa. Le prese la mano e le posò un bacio sul palmo. Desideravo tantissimo aiutarti e mi sentivo terribilmente inutile. Lei gli accarezzò la guancia. Oh no! Sentivo che ti stavi prendendo cura di me. Con l'acqua e il cibo. E poi, credimi, eliminare Bobbin è stata la cosa più importante. Anche se capisco che per te debba essere stato orribile. Per me lo è stato di sicuro. Lucy Gray confessò tre delle sue uccisioni. Prima Uovi, benché non fosse lei l'obiettivo. Aveva semplicemente sistemato una bottiglia contenente qualche sorso d'acqua e un pizzico di polvere topicida, come se qualcuno l'avesse inavvertitamente lasciata cadere nei tunnel. Ed era stata Uovi a trovarla. Io puntavo a Coral. Sostenne poi che Mortifer, cui aveva avvelenato la pozzanghera, avesse contratto la rabbia allo zoo, quando Jessup gli aveva sputato in un occhio. Perciò il mio è stato davvero un atto di pietà. Gli ho risparmiato il calvario che è toccato a Jessup. E far fuori tricce con il serpente è stata autodifesa. Ancora non so bene perché quei rettili mi amassero tanto. Non sono convinta che fosse il mio canto. I serpenti neanche ci sentono bene. Così glielo raccontò. Le disse del laboratorio, di clemenzia, nel piano della dottoressa Gol di liberare i serpenti nell'arena, e di come lui avesse fatto cadere il suo fazzoletto, il fazzoletto del padre, nella teca, in modo che i rettili potessero familiarizzare con l'odore di lei. Ma lo hanno trovato, bello impregnato del tuo e del mio DNA. Ed è per questo che sei qui. Non per il topicida nel Porta Cipria, chiese lei. Sì, per il topicida mi hai coperto tu, e magnificamente anche. Ho fatto del mio meglio. Rimase per un attimo a riflettere sulle varie cose. Beh, questo è quanto. Io ho salvato te dal fuoco e tu hai salvato me dai serpenti. Adesso siamo responsabili l'uno della vita dell'altra. Sul serio? Chiese lui. Certo, rispose la ragazza. Tu sei mio e io sono tua. È scritto nelle stelle. E da lì non si scappa. Si piegò su di lei e la baciò, rosso in viso per la felicità. Perché, al contrario di lui, Lucy Gray ai segni celestici credeva, e ciò sarebbe bastato a garantirgli fedeltà. La sua non era in discussione. Se non si era mai innamorato di nessuna a Capitol City, era improbabile che il distretto 12 offrisse granché in termini di tentazioni. Una strana sensazione alla nuca richiamò la sua attenzione e trovò Seamus che assaggiava il suo colletto. Ah, salve! Posso aiutarla, signora? Lucy Gray rise. Si dà il caso che tu possa, se sei dell'idea. Deve essere munta. Munta? Non so neanche da dove cominciare. Con un secchio. Su, a casa. Lucy Gray schizzò un po' dell'acqua del ghiaccio in direzione di Seamus e la capra lasciò andare il colletto. Poi strapò la busta e prese gli ultimi due cubetti, infilandone uno nella bocca di Coriolanus e uno nella sua. Certo che è bello avere del ghiaccio in questo periodo dell'anno. Un lusso d'estate e una maledizione d'inverno. Non si può ignorarlo e basta, chiese Coriolanus. Non qui. In gennaio le nostre tubature sono gelate e abbiamo dovuto far sciogliere grossi pezzi di ghiaccio per avere l'acqua per cucinare. Per sei persone e una capra? Rimarresti sorpreso se vedessi quanto bisogna faticare. È andata meglio quando è arrivata la neve. Quella si scioglie abbastanza in fretta. Lucy Gray afferrò la corda di Seamus e raccolse la chitarra. Ci penso io. Coriolanus allungò la mano per prendere lo strumento. Poi si chiese se lei glielo avrebbe affidato. Lucy Gray gli consegnò la chitarra senza difficoltà. Non è bella come quella che Pluribus ha prestato a noi due, ma ci paga da mangiare. L'unico problema è che stiamo finendo le corde e quelle fatte in casa non bastano. Se scrivessi a Pluribus pensi che potrebbe mandarmene qualcuna. Scommetto che gliene sono avanzate dall'epoca in cui gestiva il locale. Posso pagare? Ho ancora quasi tutti i soldi che mi ha dato il decano Highbottom. Coriolanus si fermò di colpo. Il decano Highbottom? Il decano Highbottom ti ha dato dei soldi? Sì, ma un po' di nascosto. Prima si è scusato per quello che avevo dovuto passare. Poi mi ha infilato in tasca un rotolo di banconote. E per fortuna. I covi non si sono esibiti mentre ero via. Erano troppo sconvolti per avermi perso, disse. In ogni caso posso pagare quelle corde se Pluribus ha voglia di aiutarci. Coriolanus promise di chiederglielo nella prima lettera che gli avrebbe scritto. Ma la notizia della furtiva generosità del decano lo sconcertava. Perché mai l'incarnazione del male avrebbe dovuto aiutare la sua fidanzata? Rispetto? Pietà? Senso di colpa? Stramberia da morfamina? Ci rimuginò sopra mentre giungevano alla veranda anteriore dove la ragazza legò Shemus a un palo. Forza! Vieni a conoscere la famiglia. Lucy Gray lo prese per mano e lo guidò verso la porta. Come sta Tigris? Avrei tanto voluto poterla ringraziare di persona per la saponetta e per il mio vestito. Adesso che sono a casa voglio mandarle una lettera e magari una canzone se metto insieme qualcosa di abbastanza buono. Le farebbe senz'altro piacere, disse Coriolanus. Le cose non vanno molto bene. Sono sicura che sentono la tua mancanza. O c'è dell'altro? Chiese. Ma prima che lui potesse risponderle, entrarono in casa. Era composta da un'unica grande stanza e da quella che sembrava una zona notte su un soppalco. Schierati sul fondo, una stufa a carbone, un lavello, uno scaffale di stoviglie e un frigorifero antiquato componevano la cucina. Un lungo cavalletto a pen di abiti era allineato alla parete di destra. La loro collezione di strumenti ricopriva quella di sinistra. Su una cassa c'era un vecchio televisore con un'antenna enorme, ramificata come le corna di un cervo e completata da pezzi di stagnola attorcigliati. A parte qualche sedia e un tavolo, il posto era privo di altri mobili. Tam Ember, appoggiato allo schienale della sedia su cui era seduto, teneva il mandolino sulle ginocchia, ma non suonava. Clerk Carmine sporgeva la testa dal soppalco, fissando infelice Barbazor e Moe D'Ivory, quest'ultima visibilmente irritata. Quando li vide, attraversò di corsa la stanza e cominciò a tirare Lucy Gray verso la finestra che guardava il cortile sul retro. «Sta di nuovo combinando dei guai!» «Lo avete lasciato entrare?» chiese la ragazza, che sembrava sapere di chi parlasse. «No, ha detto che voleva solo il resto della sua roba. Gliel'abbiamo buttata qui dietro», rispose Barbazor, le braccia incrociate in segno di disapprovazione. «Allora qual è il problema?» Lucy Gray parlò con calma, ma Coriolanus la sentì aumentare la stretta sulla sua mano. «Quello», disse Barbazor, accennando alla finestra sul retro. Coriolanus seguì Lucy Gray e guardò in cortile. Moe D'Ivory si infilò a forza tra loro. «Seianus avrebbe dovuto aiutarmi con le noci!» Billy Toop era in ginocchio, con accanto una pila di vestiti e qualche libro. Parlava in fretta e intanto tracciava una specie di disegno nel terriccio. gesticolava spesso per indicare ora una direzione, ora un'altra. Di fronte a lui, un ginocchio a terra, Seianus lo ascoltava con attenzione, facendo cenno di aver capito e aggiungendo una domanda ogni tanto. Per quanto la presenza di Billy Toop in quello che ormai considerava il suo territorio lo infastidisse, Coriolanus non vedeva grandi motivi di preoccupazione. non riusciva a immaginare di cosa potessero parlare lui e Seianus. Che avessero trovato un comune motivo di scontentezza, tipo che le loro famiglie non li capivano? «Sei in pensiero per Seianus? Sta benissimo, lui parla con chiunque!» Coriolanus tentò, ma senza riuscirci, di intravedere i segni che aveva tracciato Billy Toop. «Cosa sta disegnando?» «Sembra che gli stia dando delle indicazioni di qualche genere», disse Barbe Isur, prendendogli la chitarra. «E se ho ragione, il tuo amico deve rientrare». «Ci penso io». Lucy Gray fece per lasciare la mano di Coriolanus, ma lui la trattenne. «Grazie, ma non sei obbligato a occuparti di tutti i miei problemi». «E' scritto nelle stelle, immagino», ribatte Coriolanus con un sorriso. Era comunque ora che affrontasse Billy Toop per stabilire qualche regola. Quel ragazzo doveva accettare il fatto che Lucy Gray non era più sua, ma apparteneva decisamente e per sempre a lui. Lucy Gray non rispose e non provò più a liberare la mano. Mentre varcavano in silenzio la porta sul retro aperta, la luminosità del sole di agosto, ormai alto nel cielo, fece strizzare loro gli occhi. Billy Toop e Seianus erano così presi dalla discussione che Coriolanus e Lucy Gray dovettero avvicinarsi fin quasi a incombere sopra di loro, prima che Billy Toop avesse una reazione e passasse rapido la mano sul disegno nel terriccio. Senza il suggerimento di Barb Hazor, forse Coriolanus sarebbe rimasto privo di indizi. Invece, con una rapida occhiata, riuscì a riconoscere l'immagine. Era una piantina della base.